Le associazioni datoriali teramane, API e Aniem tornano a temere concretamente che la sede della Camera di Commercio di Teramo possa essere scippata dall'Aquila nel momento di una futura fusione. Eppure Teramo conta un numero più alto di aziende rispetto all'Aquila. Per il presidente dell'Associazione Piccole Imprese, Alfonso Marcozzi, l'accordo di accorpamento tra le due Camere di Commercio non doveva essere fatto. Si è trattato di un atto volontario voluto nel 2016 dall'attuale presidente Gloriano Lanciotti che per Marcozzi riveste questo ruolo illegittimamente. Dunque l'intero iter lessivo per Teramo sarebbe anch'esso illegittimo. Lei non brinda la fusione? No assolutamente, a fondo è una berzelletta, non ci interessa brindare. Oramai la storia va avanti da diversi anni, dopo la riunione di marzo di quest'anno si pensava che attraverso una comunicazione interlocutoria il tutto sarebbe risolto. Stiamo parlando della sede principale a Teramo, della Camera di Commercio, dopo la fusione volontaria tra Teramo e l'Aquila. Il presidente Lanciotti, che secondo me è illegittimo per norma perché non può stare lì, ha superato il terzo mandato, ci aveva rassicurato dicendo che l'Aquila era d'accordo sul fatto di fare questa nota interlocutoria per stoppare l'avanzamento della fusione. Ma secondo me questo non è vero, non era vero allora perché era scontato che l'Aquila sicuramente non sarebbe tornato indietro su quella posizione e oggi i fatti ce lo stanno confermando perché dai media si evince chiaramente che l'Aquila non è d'accordo sul fatto di tornare indietro. E adesso che bisogna fare? Abbiamo perso degli anni, abbiamo perso qualche anno in attesa di quale evento non lo so, forse in attesa di qualche poltrona molto probabilmente. Se l'azione fosse stata portata da qualche anno forse oggi avremmo un quadro diverso, forse lo spiraglio è quello di dichiarare illegittimi gli atti proposti dal presidente, visto che non è legittimato ricoprire quel ruolo. Le associazioni Api e Aniem di Teramo chiedono poi l'intervento del sindaco di Teramo e del consiglio comunale al fine di sensibilizzare la regione Abruzzo a sospendere il percorso di accorpamento tra le camere di commercio di Teramo e l'Aquila anche in base alle recenti modifiche della legge. Grazie a tutti.